Sì, non è mai bello. Sei ancora preso a quella ragazzina? Resta qui stamattina. Sì. Tu non hai viaggiato molto, vero? No, in realtà no. Che non si muove, non ha modo di rendersi conto quali sono le proprie catene. Questo è per te. Come ti chiami? Emanuele. Dimmi la tua paura. Dimmi la tua paura. Volevi sapere qual era la mia grande paura?